Pronto soccorso come ospedali da campo dove si vive un'emergenza continua, collassa la sanità a Foggia in provincia certificando secondo CGL Cisle Will il fallimento delle politiche del governo emiliano e di conseguenza della locale Asl e dei riuniti. La sanità dauna è come un paziente in coma, denunciano i sindacati che elencano tutta una serie di criticità quasi un anno per una risonanza magnetica, due anni per la mineralometria ossea computerizzata esame che potrebbe essere eseguito in tempi brevissimi, date impossibili per le mammografie. Nella città capoluogo i tempi di attesa al pronto soccorso solo per il triage sono snervanti, ore. A Sansevero e Cerignola le sale operatorie sono a medio regime dal primo luglio per mancanza di medici ed anestesisti e per consentire ai lavoratori di andare in ferie. Per rimediare la carenza di organico ormai endemica il personale è costretto spesso a turni di lavoro massacranti che finiscono per ripercuotersi sulla qualità dell'assistenza. Le aggressioni a medici e infermieri sono sempre più frequenti, il precariato accomuna tante strutture della Capitanata. In tempi non sospetti, scrivono i confederali, denunciamo il rischio di disagi e di servizi che la chiusura dei punti di primo intervento avrebbe creato sul territorio down, ovvero il cortocircuito dei pronto soccorso. Confidano che la cittadella della salute che sta prendendo forma possa bloccare la deriva dei servizi. Dai segretari provinciali Maurizio Carmeno, Carla Costantino e Gianni Ricci arriva l'invito indirizzato al governatore Emiliano a nominare un assessore a tempo pieno per la sanità, considerato che questo settore impegna il 90% del bilancio regionale.